ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video oggi non vi faccio vedere perché andrò a mostrarvi delle collane che ho fatto io per la mia rubrica come nasce una collana in questo questo video vi farò vedere le collane con i fiori cioè quelle floreali fatte con i fiorellini diciamo di plastica che ho trovato un po dappertutto e che ho creato io le collane sono state create interamente da me anche il modello è una mia idea alcune le ho viste un po anche su internet però sono molto carine penso che vi possono essere utili anche come spunto per fare anche voi qualche collanina sono semplicissimi da fare alcune ovviamente hanno un po più di difficoltà per farle altre invece sono semplicissime allora parto dalla collana un pochetto più piccola che è questa qui questa qui era un braccialetto adesso ve la faccio vedere meglio era un braccialettino che praticamente non riuscivo a mettere perché era troppo piccolo gli mancava una catenella allora io ho voluto crearla diversamente e farla diventare una collanina ha purtroppo l'unica pecca che ha qualche brillantina se faccio vedere un po da vicino se mi metta a fuoco perfetto ha qualche difettino praticamente le perle un po hanno perso il colore ma poi dopo ci ripasserò con uno smalto trasparente uno smalto perlato volevo dire comunque l'effetto antico non è male insomma ha quell'effetto un po consumato antico carino e ha questi fiorellini aveva questo braccialetto aveva questi fiorellini questo centrale questo centrale aveva perso scusate questo centrale aveva perso il berlantino e io ce l'ho aggiunto ci ho messo questo qui con un po di un goccio di colla a caldo e il risultato finale questo qua lo faccio vedere giù eccolo qua questo è il risultato questa è una potete realizzare anche voi tranquillamente una collana da un braccialetto perché è semplicissimo io qui ho messo dei anellini più un po più grandi perché appunto dava questo effetto a a curva incurvata per per appunto metterla sul collo non è non è assolutamente difficile da fare anzi è molto semplice poi allora altre un'altra collanina un po un po piccolina vi faccio vedere quelle piccole poi iniziamo a farvi vedere quelle grandi è questa qui che ho fatto interamente io e le roselline non le ho comprate però il modello è semplicissimo come vedete ed è fatta praticamente con questa catenella dorata e ha queste roselline oddio ecco scusate queste roselline che sono quelle di plastica io dietro ho attaccato questa rondella con la colla a caldo fatte tutte quasi tutte con la colla a caldo perché è l'unico ma l'unico collante che aderiva meglio sennò con l'atta che mi si staccavano sempre e ho messo questi gancetti qui ai lati e in tutti in tutte le roselline e poi ci ho messo applicato un brillantino il risultato è questo che se lo faccio vedere meglio di questo rosa shocking che mi piace tantissimo l'ho utilizzata qualche volta l'ho utilizzata molto bella molto elegante e questo è il risultato è fatta così questa ha una difficoltà un pochetto più elevata da farla perché non tantissimo ma basta prendere queste roselline che si trovano dai cinesi io ne ho trovate sulle scatoline e comprare una rondella io le avevo trovate d'argento le colorate d'oro con con lo smalto poi ho creato questi gancetti qua questi anellini qua li ho messi all'interno della rondella poi ci ho applicato sopra con la colla a caldo il fiore e quindi il risultato è questo poi ci si applica il brillantino con un goccio di colla a caldo in mezzo e questo è il risultato non è difficilissimo da fare alla fine molto carino poi un altro modello sempre un pochetto più piccolo questo molto facile facile facilissimo da fare facilissimo da fare ed è questa collana qui spero di farvela vedere questo è il risultato è bellissima è fatta con questi fiorellini che ho trovato anche questi dai cinesi e mi piacevano tantissimo perché hanno questo effetto perlato devo dire veramente meraviglioso e c'erano proprio tutti questi fiorellini così all'interno c'era questo grande questi due piccoli questi medi e anche questi altri due piccoli e ho fatto questo diciamo disegno questo modello così questo è semplicissimo basta con un chiodo e bruciare la punta con con il fuoco e fare questi forellini perché questa è plastica quindi si può bucare tranquillamente con il fuoco sui fiorellini e metterci un semplice anellino uno dopo l'altro fare la forma che vi piace e poi mettere una catenella io ho messo questa e con la chiusura il gancetto e questo è il risultato questa mi piace tantissimo è molto elegante l'ho messa una volta ma cercherò di metterla più spesso perché è veramente bella molto leggera questo ve lo devo dire molto leggera ed è veramente bella cioè non l'ha sentita il collo da per quanto è leggera anche la catenella che in alluminio è leggera quindi risulta proprio leggerissima un'altra collana fatta con queste roselline di plastica è fatta con lo stesso modo che ho che ho creato questa collanina fri rosa è questa verde questa collanina con le roselline verde verde tiffani con queste roselline verde tiffani il modo è uguale ho messo questi gancetti e poi ho incollato il fiore sopra e l'effetto è questo ecco qua scusate e l'effetto è questo qua molto carina graziosa anche questa è delicata anche questa ha la stessa difficoltà di quella rosa non è molto difficile da fare basta avere solo un po di colla a caldo un po di pazienza e qualche gancetto e una catenina e il gioco è fatto mi piace tantissimo questa collana perché è stata una delle prime diciamo dopo quella rosa che ho creato quando ho comprato queste roselline queste si trovano dai cinesi e non costano neanche tanto infatti ne avevo prese tantissime poi altre collanine fatte con questo modo qui però con modelli molto più complicati diciamo più elaborati ecco sono sono due una è questa qui con queste roselline azzurre il modello è molto è molto elaborato diciamo ho creato una base dietro con queste rondelle così lo stesso modo di quell'altra solo che ho fatto ho fatto più ganci diciamo ho agganciato le rondelline su tutte una vicino all'altra formando questo modello qua vedete dietro così con questa rosellina che pende questa più piccolina che pende aspetta che ve la giro ecco qua e questo è il dietro e il davanti risulta così eccola qui è molto graziosa mi piace tantissimo questa collana l'ho già indossata anche in un video quello che ho fatto con l'amica mia il non mi ricordo come si chiama il video ve lo lascio qui comunque e questo qui il modello ci ho fatto anche gli orecchini ma gli orecchini ve li farò vedere in un altro video e questo è il modello è alternato da roselline più piccole a roselline più grandi fatta così un'altra collana sempre lo stesso modo di fare stessa creazione però con con un modello diverso è questa qua questa è su toni del rosa molto bella mi piace questa è anche questa la mia stra preferita il modello adesso vi faccio vedere il dietro così capite come è fatta dietro il modello è questo qua vedete ha tutte queste rondelle quelle più piccole davanti quelle medie quelle grandi poi quelle piccole e una più grande alla fine mentre quell'altra aveva quella più piccola alla fine questo è il dietro e il davanti è così è veramente bellissima elegante poi il rosa è un colore molto molto delicato e quindi rende la creazione molto delicata secondo me molto bella e anche questa creata nello stesso modo un'altra che ho creato io questa è quella più più semplice anche queste più semplici da fare sono queste qui che ho visto da internet che è questo qui con i fiorellini questo è veramente semplicissimo tanto da fare perché questi fiorellini non sono altro che quei fiorellini che si trovano sulle calamite per le tende per chiudere per fissare le tende e i fiori sono identici a quelli che ho visto nelle immagini di internet e l'idea mi piaceva veramente tanto ho trovato questi colori con questa collana ho trovato questi fiorellini con questi colori qua marrone, giallino e bianco e ho fatto questa composizione un po' particolare ecco semplice questa è facilissima perché quando voi staccate la calamita trovate questo traforo diciamo questo cerchietto traforato e io ho semplicemente messo agganciato un anellino con la catenina le ho agganciate con delle catenine perché se no venivano troppo appiccicate così una vicino all'altra e poi ho attaccato una catenella e il gioco è fatto e questa è una, un'altra di un altro colore perché mi ha proprio coinvolto questo modello qui mi è piaciuto tantissimo è questo qua sui colori dell'azzurro, anche questo è veramente bellissimo l'unica diversità di questo qui è che ho messo due fiorellini diversi che sono questi qua aspetta che zoomo perfetto, metto a fuoco più che altro è questo qua, vedete quanto è bella ha questa perlina in mezzo e questi diciamo come posso spiegare questi brillantini, questi diamantini messi a forma di petali e poi i fiori sono sempre come quelli che vi ho fatto vedere in questa collana qui ma sono azzurri quella in mezzo è blu e gli altri sono azzurri questa è veramente bella estiva tantissimo mette molta allegria a me mi dà il senso tanto di mare e anche qui per abbellirla ho messo questa fogliolina ne avevo due quindi l'ho messa qui un'altra sempre più o meno simile non proprio uguale ma simile è questa qui questa è la mia preferita anche questa mi piace tantissimo questa è veramente estiva è fatta con gli stessi fiorellini che si usano per chiudere le tende ma fatti diversamente da questi vedete sono diversi sono più grandi e ho trovato questi fiori con questi decori floreali anche questi e con questi fiorellini in mezzo perlati io ho aggiunto all'interno un brillantino che brillano poco purtroppo però l'effetto è veramente carino mi piace tantissimo anche questa l'ho sfruttata a parecchie volte è veramente semplicissima anche questa da fare basta bucare i fiorellini e poi mettere un anellino per ogni fiorellino e agganciarla a una catenella io avevo questa anche questa di alluminio molto delicata vi consiglio se volete fare le collane vi consiglio le catenelle d'alluminio perché non sbiadiscono e sono molto leggere e questa è un'altra poi altre diciamo un'altra collanina sempre un po' più piccola è sempre fatta con la tecnica che avevo usato per quegli altri fiori con le con le rondelline è questa qui questo è un altro modello fatto con fatto con 5 fiorellini piccoli per lato 3 più grandi in mezzo e altri 5 anche questa è bellissima a me piace tantissimo fatta così la stessa la stessa tecnica che ho usato per quell'altra e le stesse fiorellini color tiffany diciamo mi piaceva tanto questo colore quindi mi c'ero buttata proprio poi un'altra collanina questa qui ha una diciamo una difficoltà un po' più maggiore un po' più elevata perché è stata proprio lavorata è questa qui adesso ve la faccio vedere intanto tutta intera questa qui è fatta appunto come vi dicevo con una tecnica ancora un pochetto più complicata sempre con colla caldo e anellini e catenine dietro è fatta così adesso ve la spiego un po' è fatta così allora ho per quelle piccole la tecnica è semplice diciamo sempre uguale a queste qui mentre per queste qui ho fatto un lavoro un pochetto più complicato diciamo un po' più maggiore ho messo ho intrecciato queste perline su questo su questo scheletro di ferro e poi ho agganciato tutte le roselline a lato formando questo decoro tipo a croce e il risultato è questo qua e veramente sono molto soddisfatta che mi è venuto così questo qui è ovviamente un livello di difficoltà un po' più alto come ho già detto molto elevato diciamo però alla fine anche questa non è tanto difficile da fare perché poi alla fine in mezzo ho messo questo fiore più grande per fissare il tutto e l'effetto è questo qua cioè a me piace veramente tantissimo questa sinceramente la devo ancora mettere però sicuramente la metterò la vedrete in uno dei miei video ogni tanto la sfrutto e questo è il risultato di questa un'altra anche questa anche questa ha un livello di difficoltà abbastanza alto solo che questa purtroppo mi è venuta un po' così perché avevo la colla che non mi funzionava più e quindi mi è venuta un po' con i fili della colla quindi vi chiedo scusa per i fili della colla però il risultato è questo qua anche qui lo stesso discorso un pochetto uguale a questa qua ho intrecciato con i fili di ferro le ho incrociate vedete ho fatto un incrocio e poi ho messo una rondella e in mezzo ci ho messo un brillantino solo che alcuni non hanno non hanno luce perché sono brillantini trasparenti e l'effetto è questo qua 4 in mezzo più grandi e 3 a lato più piccoli anche questa è molto carina l'unica cosa che mi dispiace è che comunque sia a me venuta leggermente male perché mi è rimasta un po' di colla in giro perché avevo la colla un po' la colla calda un po' rovinata la pistola un po' rovinata e quindi non era riuscito tanto bene però l'effetto mi piace non è male l'ultima collana quella più grande questa l'ho creata completamente io con materiali di riciclo è questa qua anche questa veramente mi piace tantissimo come l'ho creata il modello l'ho creato io ho fatto questi petali questi fiorellini fatti con una bottiglia di plastica addirittura con i flaconi quelli per il detersivo che sono un po' più resistenti l'ho trovata di questo colore arancione e poi con lo smalto rosa ho pitturato l'interno e il risultato è questo qua e anche qui ho messo l'arancione con il verde dietro avevo questo questo pezzo di stoffa questi qui erano dei centrini piccoli di stoffa io li ho colorati con lo smalto dorato e si sono irrigiditi e poi dopo ho incastonato il fiore qui e ho agganciato uno vicino all'altro con una catenella e ho messo la catenella per metterla al collo anche questa l'ho utilizzata parecchie volte è leggerissima pure questa perché appunto la plastica è molto leggera anche la catenella però questa non è proprio di alluminio è un alluminio un po' scarso purtroppo si è annerita però basta sostituirla e il gioco è fatto e ne ho fatto una grande e due alato piccole e questo è il risultato mi sono divertita tanto a fare queste collane al momento mi sono fermata a farle perché adesso sono concentrata sul make up quindi queste qui sono le collane floreali che ho creato io il video è finito spero che vi sia piaciuto che vi abbia dato idea per qualche vostra collana particolare se voi avete questa passione e vi piace creare qualche cosa di originale nuovo anche come regalo o qualcosa per voi stessi questa è un'idea meravigliosa soprattutto per l'estate per la primavera estate questi fiori sono veramente stupendi dato che adesso è finita l'estate ho voluto lasciare questo spruzzo l'ultimo spruzzo di primavera di estate per finire in bellezza insomma agosto che ormai è finito da un pezzo se il video vi è piaciuto mi raccomando datemi tanti pollicioni in su spolliciatemi tantissimo commentatemi fatemi sapere qual è la collanina che vi è piaciuta di più e iscrivetevi per non perdere i nuovi video noi ci vediamo alla prossima ciao